Benvenuti, bentrovati amici e soprattutto amiche, finalmente siamo alla fine dell'anno, finisce questo 2022 ed è tempo di fare classifiche, super classifica show, vecchie maniere, dov'è Dodò? Dove sei Dodò? Dobbiamo farla super classifica, dobbiamo farla super classifica. E stavolta giudichiamo le migliori tavole di questo 2022. Vediamo che cosa è successo, le tavole che più ci hanno fatto eccitare, più ci hanno fatto venire il pipo grosso, più ci hanno fatto sbavare, esaltare, io ho fatto salti, schiume e tante altre brutte cose durante questo 2022 e quindi vediamo quali sono secondo me le migliori tavole di questo 2022. Poi ovviamente aspetto le vostre qui sotto, ma prima di tutto, se non vi è di peso, lasciate un likeino o anche un dislikeino, va bene, qualsiasi cosa. Lasciate un like così il video arriva a più persone, dobbiamo diffondere il verbo, vero Dodò? Sì, 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 sì. Diffondere il verbo, altrimenti come si fa? Con i like. Soltanto i like possono portarci a raggiungere persone nuove. Allora, cominciamo, vediamo. Non è una classifica, diciamo, ufficiale, ufficialissima, sono andato un po' a sentimento, ci sono posizioni che potrebbero muoversi, alternarsi l'una con l'altra, però diciamo che l'ordine è preferibilmente questo. Cominciamo dalla prima posizione, cioè dall'ultima, quella che meno tra queste mi ha esaltato, ma mi ha esaltato comunque molto, molto, molto. La prima un po' banalotta è l'arrivo a Heged dei nostri Mugiwara e qui vediamo la Sunny, la Thousand Sunny, che naviga nelle acque limitrofe dell'isola di Heged e c'è un potentissimo mecha squalo che nuota sotto le acque e sbuca sotto la Sunny. A me sta tavola ha fatto i brividi, sembra un frame dello squalo di Spielberg, però in maniera odesca, sembra quasi come se il sensei avesse preso un tovagliolo e si fosse messo così a disegnare. E' veramente in maniera, anche abbastanza veloce, ma è molto bella, è dettagliata, mi piace tantissimo, mi piace veramente un sacco, quindi l'ho voluta mettere in questa top, perché la reputo veramente una tavola interessante. Però è soltanto un assaggino questo, un assaggino. Proseguiamo e al secondo posto dal basso, quindi diciamo al numero 30 e passa qualcosa, sono più di 30, abbiamo l'Air Vegapunk, la prima finalmente visione del Dottor Vegapunk in tutta la sua bellezza e imbruttenza. Questo Vegapunk che richiama ovviamente le figure, l'aspetto dello scienziato incredibile Albert Einstein, quindi è sicuramente stato un momento altissimo in questo 2022. Aspettavamo Vegapunk da non so quanti anni, venne nominato per la prima volta durante la saga di Water 7 addirittura, quindi tanto, tanto tempo fa e finalmente abbiamo l'aspetto del nostro medico, dottore, scienziato, genetista, chimico, psichologo, psichiatra e tutto quello che volete. Lui è tutto, è tutto, è tutto in una persona sola, vecchio cuore, vecchio cuore. Ma proseguiamo e abbiamo Luci, Luci in versione risvegliata, questa è una tavola fresca, fresca, è il capitolo gli scorsi e onestamente vedere Luci trasformato in versione risveglio dopo tutte le botte picchiate, battaglie viste nel corso degli anni, perché non è che soltanto Luci abbiamo visto Agnes Lobby e Water 7, ma poi è comparso anche durante le mini avventure del CP e poi durante la mini saga del Reverie. Quindi, quindi, Luci è un personaggio che ci portiamo dietro da tanto, tanto tempo e questa ultima sua trasformazione la trovo veramente molto interessante e dà al personaggio quel ulteriore prestigio che si merita. Poi è un personaggio odiato, ma nel senso positivo, quando odi un cattivo è perché è fatto bene e lui è fatto bene e questa trasformazione mi ha esaltato parecchio. La chiusura di Wano, con Iori sul palco che imbruttisce la memoria dei Kurozumi con questa bellissima tavola del Sensei, io giudico sia l'impatto di queste tavole sia anche come sono disegnate, cioè quello che mi danno nel vederle. Questa tavola è bellissima, Iori è bellissima, questa posizione con il ventaglio, il palco dietro, i fiori che cadono, da una parte c'è Oden, Orochi che brucia, la gente di Wano in festa e lei che piange. Piange ricordando, ovviamente, tutto il dolore di questi lunghi vent'anni di dittatura dei Kurozumi. Bellissimo, bellissimo. Poi c'è l'ammiraglio verde, Toro verde, Aramaki. Questa tavola la trovo splendida, cioè il potere della natura. Qui vediamo lui, che con le sue braccia ormai diventate alberi, tutta Wano, torna a essere rigogliosa, torna a essere verde dopo tanti tanti anni di distruzione, grazie a un ammiraglio che viene lì per fare il culo a destra e a manca a tutti quanti. Cioè, è paradossale, no? La natura che arriva per distruggere ma porta vita. Questa tavola la trovo molto bella, molto ben disegnata, proprio con Aramaki che tocca il terreno, questo rinasce e da esso sbuccano questi alberi a forma di pugno. Molto potente, molto potente. E qui abbiamo, finalmente, i combattimenti, il combattimento tra Rufi e Kaido, ci saranno diverse tavole di questo combattimento. E qui c'è la sciottata di Kaido in versione imbruttente, quindi vedete che qua è quando ha le sopracciglia e il naso dilatato perché è in versione ubriaco, malefico, molesto. E Rufi in Gear Fort che viene devastato con questo colpo di Kanabò. La trovo molto bella, molto potente e dimostra quanto comunque l'imperatore fosse. E attualmente, secondo me, è ancora il più forte in assoluto. Vi ricordo che, come la penso io, ovvero che Rufi è stato fatto vincere da Kaido con qualche sotterfuge, so che molti non sono d'accordo con questa mia visione, ma me ne sbatto. Kaido è il più forte, indipendentemente da tutto è e resterà il più forte di tutti. Però c'è da dire che Nika, il nostro Rufi risvegliato in versione Nika, resta ed è tuttora uno dei personaggi più forti del manga. E questo mega pugno gigantesco che sbucca dalle nuvole per colpire Kaido lo dimostra. Veramente, questa tavola non dico che è bella, ma è molto d'impatto. Ti lascia quel... Uuuuh, la Madonna! Che roba è? Cioè, esce in noi il Renato Pozzetto, è la Madonna, no? E qui, 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 pozzettissima, pozzettissima. Cosa c'è da dire? Kaido sembra minuscolo di fronte a questo super pugno. E poi vedremo le conseguenze, no? Chiaramente. Un'altra tavola, sempre con Aramaki e Momonosuke, che io trovo molto bella, proprio per ciò che rappresenta. Momonosuke che brucia Aramaki con il suo soffio di drago, con il suo Borobreath. Poi chiaramente non porterà nessun danno all'ammiraglio, perché si ricreerà in tre secondi. Però, ecco, questa tavola dimostra la crescita di Momonosuke. Ed è potente sia visivamente che come, appunto, ciò che vuole rappresentare. Momonosuke che prende in mano le redini di Wano. Io sono lo Shogun, io devo difendere il mio paese. E davanti a un avversario nettamente più forte di lui, nettamente più potente e più preparato, attacca con questo Borobreath e lo colpisce radendolo al suolo. Poi lui chiaramente ritornerà in quanto Rogia. Si è fatto poco e nulla, ma la trovo veramente molto, molto potente. E qui di nuovo, il Gear Fifth di Rufy, il nostro Nika, in versione gigantesca. Qui vediamo Rufy colpire Kaido con questo pestone, mentre cade dal cielo, trasformatosi in questa versione di Nika gigante. Che c'è da dire? Che Kaido è preso malissimo. Rufy è divertito. Bello. Sono proprio queste tavole che ti lasciano sempre a bocca aperta. La bravura di Oda sta anche nello stupirti. Nessuno ci aspettava che Rufy scendesse dalle nuvi così immenso, così grande, meraviglioso. Qui altri combattimenti. Il combattimento tra Big Mom, Kid e Lo ha diverse tavole. Molto, molto potenti e importanti. Questo è l'attacco finale di Kid, con Lo che trancia in due l'omis di Big Mom. Mentre Kid colpisce Big Mom, che è messa a silenzio dalla bolla di Lo, essa colpisce il pavimento e poi cadrà giù da Onigashima. Trovo veramente disegnata molto bene e molto potente questa tavola. Così come per appunto anche qualche vignetta precedente, quando Lo usa lo Shockville e con questa puntura che penetra completamente Onigashima e si conficca nel paese di Uano sottostante. Veramente c'è un, non so, è potentissima sta roba. Cioè io non riesco a immaginarmi che cosa potrebbe fare Lo effettivamente a piena potenza. Perché lui si tiene fermo, ne sono sicuro che lui comunque, e anche Oda cerca di centellinare i suoi poteri. Il potere dell'Ope-Ope è veramente stravigliante e questo lo dimostra. Cioè è riuscito veramente a distruggere un'isola in due e a penetrare l'isola sottostante facendo un foro gigantesco. E se vi ricordate poi arriva praticamente nel fondale del paese, andando addirittura poi a toccare la zona dove c'è la fossa magmatica del paese di Uano. Quindi questa tavola dimostra quanto lo sia potente. Andiamo tutt'altra parte, andiamo a Camavacca. E qui c'è il risveglio, di altri tipi ovviamente, di Bartolo Miorso, che si rialza dopo essere stato portato via da Mary Joa, dai suoi compagni rivoluzionari, e qui dopo essere stato riparato in quel di Camavacca, da Lindbergh e da altri tecnici tra i rivoluzionari, Orso sente qualcosa, si rialza e se ne va. Dove è andato non si sa al momento, però vedremo, vedremo che cosa sta facendo. Il nostro Orso preferito. Altra tavola di Uano, la sconfitta di Big Mom. Big Mom che cade nel foro creato da Loh, grazie al colpo di Kid, vedete anche ci sono delle bombe che cadono insieme a lei, perché ovviamente colpendola hanno urtato tutta la zona delle munizioni di Uano. Lei cade, cade in questo foro dove ci sta il magma in fondo, mentre in silenzio cade. Lei pensa tra sé e sé, imbruttendo Roger, maledetto, perché il One Piece sta anche a Wano. Un mistero lasciato così dalle parole di Big Mom a mente cade nel lavoraggine. E poi l'esplosione, che non urta minimamente la gente di Uano che sta festeggiando, perché in questa bolla gigante di silenzio creata da Loh, nulla si sente e quindi nessuno si accorge di questa grandissima esplosione. Torniamo a Heged e abbiamo l'apparizione del Serafino Jimbe. Ho messo questa tavola, diciamo, in rappresentanza dei Serafini. L'ho trovata molto ben disegnata, perché c'è, io mi immagino, anche questa scena in anime, dove loro arrivano e si apre questa barriera, questa barricata, questo portone, dove al dietro ci sta il Serafino seduto. Ricorda tantissimo la scena anche di Guerra Stellari, episodio 1, quando si aprono le porte verso il finale e dietro queste porte si trova Darth Maul. e poi ci sono chiaramente Obi-Wan che novi e Qui-Gon Jinn che dicono andate avanti, ci pensiamo noi. E lì comincia il combattimento. Poi qua diciamo che il combattimento c'è, ma è in maniera diversa, non c'entra nulla con Star Wars. Però è proprio l'impatto di questa scena, con l'apertura di queste porte e di questo essere potentissimo, con questo silos dietro, queste percentuali, questo numero, e con l'aspetto di un loro compagno, e dici, porca puttana, che cos'è sta roba? Per me questa tavola è molto, molto, molto bella. Proseguiamo e abbiamo questa, questa tavola iconica, questa tavola pazzesca, cosa c'è da dire su sta tavola? È inaspettata, una tavola inaspettata, con il rosso che versa del sake in queste tazze, sorseggia e dice, eh caro Ben Beckman, credo sia il tempo di andare a sgraffignare, a prenderci il One Piece. Cosa vuol dire questa tavola? Cosa significa questa tavola? Quali sono le intenzioni del rosso? Perché mostrarci la scena in cui beve il sake, mentre pronuncia la frase One Piece? Potrebbe essere legato al One Piece, potrebbe essere uno sviarci, potrebbero essere tante, tante, tante cose. Cosa ha in mente il rosso? Non lo so. Vedremo a suo tempo che cosa ha in mente. La tavola della morte di Rufy, con l'agente Guernica, che distrae Rufy. Rufy viene distratto da questo strattone del CP, e Kaido, incazzatissimo, colpisce con il suo cannabò, intriso di ambizione del Re Conquistatore, il corpo di Rufy in Gear 4. Questo colpo causerà una morte apparente di Rufy, dalla quale poi arriverà, finalmente, il risveglio del frutto mitologico. Ito, ito, modello Nika. Questa tavola è molto importante per tutto il manga, cioè la morte di Rufy, che poi porta la rinascita da parte di Nika. Kaido poi sventrerà Guernica con un colpo di Kanabo, ma non sappiamo se Guernica poi sia davvero morto o no, perché poi le foto a Nika le ha fatte lui, da quello che ci ha detto Oda. Va bene, va bene, poco male, poco ci importa. Però questa tavola la trovo veramente molto rappresentativa di quello che poi sarebbe accaduto dopo. Cioè la vittoria di Kaido sul campo, anche con questo sotterfugio da parte del CP, e poi la rinascita di Nika. Bellissimo. La Wano antica. Voi sapete io quanto ho atteso la Wano antica. Aspettavo tutt'altro, ovviamente. Io mi aspettavo che Wano fosse un rimasuglio del Regno Antico, non è ancora detta l'ultima parola, per carità, però io non ci credo neanche più. E va bene così. Però quando si è vista questa Wano antica, io sono andato in estasi. Mi aspettavo le risposte che tanto attendevo da mesi, che poi non ci sono state, più scam che altro. Però già il fatto che esistesse una Wano antica sul fondale di questo lago, tra le mura che coprono e nascondono Wano al mondo, diciamo che è comunque una piccola risposta alle domande. Quali saranno le vere risposte, lo scopriremo un giorno. Però c'è da ammettere che questa tavola, per quanto poi non sia meravigliosa da vedere, perché non è che sia uno splendore, è molto, molto, molto importante. Vedremo. Un giorno, un bel dì vedremo. Il Kaido super drago potentissimo, che in molti hanno confuso con un risveglio, ma non c'entra niente. È Kaido che crea un suo avatar attorno a sé di fiamme. Infatti, se vedete, al centro della testa ci sta Kaido dentro, più piccolo. Questa tavola la trovo meravigliosa. Cioè, il Kaido dragone, io non vedo l'ora di vederlo a colori, perché sarà qualcosa di devastante. E Rupi piccolino a fianco, che tiene Kaido e si brucia le mani. Da qui poi ne si conseguirà il pugnazzo e la sconfitta di Kaido, perché poi si lascia buttar giù da Wano al sentire il sogno di Rupi. Queste parole, io voglio un mondo dove gli amici possono mangiare a sazietà tutti insieme. Diciamo che è molto, molto bella da vedere e chiaramente richiama questo gran finale con la sconfitta. La metto in posizione molto alta proprio per questo. Dopo di lei, ma anche prima, visto che stiamo andando in ordine crescente, c'è questa tavola, con le lanterne lanciate dalla gente di Wano, con i propri sogni, le proprie speranze, la volontà di vedere finalmente Wano libera, libera da Orochi, da Kaido, dal gioco di questi dittatori, dalla fame, dalla sete, dal dolore. E questa lanterna di Otoko con scritto grazie papà, grazie per esserti sacrificato per noi, per tutto quello che hai fatto. Con la cancellazione sulla frase vorrei che tornassi, lei che capisce che il sacrificio di suo padre è un sacrificio che porterà probabilmente a qualcosa di grande, di meglio. Il sorriso, chiaramente, di Pedo Sukiyaki. E' che ho cuore, vero troll? Eccola qua. Eccola qua. Nika davanti alla luna, che sghignazza e si risveglia. Non è neanche tra le prime posizioni, ma quasi, perché per me c'è di meglio. Però diciamocelo, chi nel bene e chi nel male, questa tavola l'abbiamo vissuta tutti in maniera molto forte. Io trovo il risveglio di Nika, il risveglio di Rufy, in versione Nika, una delle scelte di Oda più coraggiose e incredibili che ha fatto negli ultimi anni. E lo dico perché non è caduto forse nel solito cliché di rendere il protagonista uber forte e anche uber potente visivamente. Cioè lo ha reso una cartolina, un fumetto vivente, questa cosa molto cartunesca. ma strapotente e veramente molto divertente. Per me è un passo in più di Oda veramente verso l'Olimpo dei mangaka. Poi so che molti non saranno d'accordo con me, il mondo è bello perché vario e questa è la mia top tavola, quindi non me ne frega assolutamente nulla. Bene, io la trovo molto molto bella. La festa di Wano. Questa tavola vale, vale questa posizione solo e soltanto per la vignettina in basso a sinistra con Kinemon e sua moglie Zuru. Chi si ricorda chi c'era al Rimini Web Marketing Festival dove l'abbiamo letto in diretta tutti insieme, io mi sono commosso alle lacrime a vedere quella vignettina lì. Perché io veramente con Kinemon ho sempre empatizzato fin da Punk Hazard. Il fatto di sapere che avesse una moglie che non la vedeva da vent'anni, lei, lui da poco comunque, e lei comunque lo ha aspettato, ha sofferto e alla fine si sono ritrovati uniti, hanno festeggiato insieme, per me è veramente una cosa al limite del dolore incalcolabile. Incalcolabile. Quindi questa tavola in toto, perché comunque è molto bella, con Rufi che balla, con Kid strizzato addosso a sé, con questi botti, i Daiko che suonano, questi tamburi, la gente con le brocche, birre, sake, festeggi, festeggiamenti, a destra manca, tutti quanti uniti col sorriso in faccia e poi Kinemon e sua moglie. Tantissima roba, tantissima roba. Lo shogun, lo shogun di Wano, il tanto atteso Momonosuke che finalmente prende potere e prende in mano il paese di Wano dopo tanti anni, tanti anni per la gente, per lui poco ovviamente, ma vederlo grande, così adulto, possente, mi ha commosso tantissimo, mi ha commosso tantissimo, e continua tuttora a commuovermi in questa tavola. La trovo di una potenza veramente incredibile, un uomo così adulto, con i capelloni, la Amenohaba Kiri in mano, la spada di suo padre, il kimono con il simbolo dei kozuki, le lune, i petali di ciliegio che cadono, questa tavola è veramente strepitosa. Un ottimo lavoro, ricordo che disse ai tempi che sembrava un disegno di Leonardo Verghella, perché secondo me Leo ormai disegna meglio di Oda, da questo punto di vista, perché ormai Oda è molto anche rapido, tante volte lascia perdere il dettaglio, la finitura, per essere più pieno, a raccontare più cose. Questo sembra un disegno di Leonardo, dove ci mette il suo tempo per fare tutti i dettagli. Meraviglioso. Eccoci qua, i quattro nuovi imperatori, Shanks, Rufi, Tic e Baggi. Chi non si è esaltato su sta tavola? Chi non si è gasato su sta tavola? Chi non ha urlato impazzito su sta tavola? I quattro nuovi imperatori che va bene Tic, va bene Rosso, va bene Rufi, ma Baggi, Baggi nuovo imperatore. Cioè questa cosa la trovo di un meraviglioso assoluto, soprattutto poi considerando quello che è accaduto dopo, il come, e il come lui è diventato uno dei quattro imperatori. Tantissima roba, veramente pazzesco. E qui vediamo uno dei quattro imperatori che si muove, Tic, nella sua magnificenza e possenza, contro Bo Hancock, mentre bloccandola per il collo e levandola il potere del frutto mero mero con il suo frutto yami yami. Questa tavola la trovo veramente splendida, soprattutto per un dettaglio, ovvero Kobe messo in ginocchio davanti a loro. Sembra quasi come che Kobe sia lì, non è che sembra, Kobe è inerme, Kobe si rende conto di non avere alcuna possibilità contro un imperatore e anche contro uno dei sette corsari. Cioè, Kobe per quanto poi sia forte, sia un personaggio molto positivo e avrà chiaramente anche lui uno sviluppo e un raggiungimento del proprio sogno, lui voleva diventare ammiraglio della marina. Questa tavola rappresenta proprio l'annichilimento sotto ogni punto di vista. Cioè, Tic che annichilisce Boa, annichilisce di conseguenza anche Kobe. Kobe che non riesce a fare nulla, oltre che a chiedere la Tic di smetterla e di arrivare a patti. Tantissimo, veramente un potere assoluto in questa tavola. Pazzesco. Così come potentissima quest'altra, dove vediamo il vero imperatore che è Crocodile, perché sarebbe dovuto essere lui il nuovo quarto imperatore, ma per un scherzo del destino, per un polantino, dove Buggy era un pochino più in vista rispetto agli altri due e la Marina ha fatto due più due e ha fatto cinque invece di fare quattro. E Crocodile non è che ci sia stato molto e quindi alla fine poi miocca vabbè dai, possiamo usare la cosa a nostro vantaggio, va bene così, lui ci mette la faccia e noi facciamo le cose da dietro. Le quinte, cosa che ho trovato, forse è ancora più interessante che mettere Crocodile come quarto imperatore, quindi hai come imperatore Buggy di facciata che comunque ha un potere mediatico assoluto rispetto agli altri due mentre gli altri due pilotano il discorso da dietro le quinte, bellissimo, bellissimo, questa tavola veramente rappresentativa di ciò che è la Cross Guild. Qua c'è l'altro imperatore, il rosso, questa tavola, chi c'è alla blind del venerdì ricorderà le mie parole, figa se è cattivo, figa se è cattivo, che devi figa, cioè qua è cattivissimo, furia, una furia cieca, perché avete paura di questa nuova era dice il rosso e con l'acchi della telefonata imbruttisce da chilometri di distanza Aramaki lo annichilisce, lo rimette a posto in tre secondi e poi ti chiedi ma che cosa sta facendo il rosso? In che modo sta giocando? Poi prende Marco a bordo lo porta a Sphinx cioè il rosso è strano fa cose strane fa cose di cui non riesco ancora a dare un senso benché sensi ce ne possano essere di qua e di là da raccattare e mettere insieme lo trovo un personaggio per quanto sia fastidioso e affascinante vedremo vedremo qual è il destino di Shanks il robottone qui siamo quasi in top 3 questa è la quinta posizione dall'alto quindi siamo in top 5 posizione numero 5 il robottone e quando abbiamo visto il robottone siamo andati tutti in estasi io in primis poi vi ho fatto un pippone allucinante su Atlantide su cose il video la review più vista dell'anno presumo con la sua Atlantide cioè cosa c'è da dire io trovo queste idee di Oda a parte che sono chiaramente poi rimandi a diverse opere giapponesi tra cui il castello di Laputa il mistero della pietra azzurra Nadia eccetera ci sono tante tante citazioni tanti comunque modi di omaggiare i vecchi maestri del Giappone però trovo sempre molto nuovo il modo in cui lui pone queste faccende perché ci mette dentro tanti tanti concetti che agli occhi magari dei più sfuggono con una determinata conoscenza riesce a vedere anche cose al di là di quello che Oda ti mostra solo su tavola e chi segue le review sa di che cosa parlo ovviamente questa tavola è veramente clamorosa e io non vedo l'ora di capire che storia c'è dietro questo robottone perché ha fatto quello che ha fatto perché è andato a Marie Joie 200 anni fa che cos'è successo 200 anni fa vedremo altra tavola qui siamo in quarta posizione Titch contro Lo un combattimento inaspettato sotto ogni punto di vista cioè io mai mi sarei aspettato che Titch e Lo venissero alle mani e qui c'è il povero Stronger con il suo frutto del Pegaso che viene tranciato in due come un tonno da Lo con stupore di Titch e di Dog Q e Titch che poi colpisce Lo con il suo Grash questo Gura crash il crash del terremoto c'è da dire che Titch ne esce comunque in grande stile da questo combattimento perché poi alla fine abbiamo visto che il suo Curuse il suo Gorgo Scuro attira Lo a sé con probabilmente le conseguenze che sono avvenute anche durante la battaglia di Banaro però è proprio questa tavola che ho trovato molto potente come è stata impostata con Titch a cavallo di Stronger che tra l'altro è pure a cavallo anche di Dog Q quindi tutto il peso dell'imperatore sui due i suoi compagni più deboli di Churma e sotto ci sono i due compagni di Churma di Lo che noi troviamo i più deboli e poi si dimostrano comunque due personaggi degni di essere nei Pirati Heart e quindi poi dalla parte Lo che colpisce e Titch che colpisce molto molto bella questa tavola la trovo ben fatta ben strutturata e chiaramente c'è un hype fotonico che io non vi dico io non vedo l'ora di rivedere Barba Nera non vedo l'ora entrami in top 3 pronti? via Lulusia che c'è da dire che c'è da dire che c'è da dire questa è la numero 3 che poi in realtà vi dico la verità al post numero 1 non è il mio numero 1 è una è una menzione speciale quindi in realtà questa dovrebbe essere il 2 però la voglio mettere al 3 per mettere all'1 quel determinato momento quel determinato momento però fate finta cioè fate finta questo è il numero 2 in realtà però è il numero 3 ok ci siamo capiti e la distruzione di Lulusia penso che questo sia uno dei momenti che più ci ha lasciato a bocca aperta di tutto di tutto il 2022 cioè Im che colpisce l'isola di Lulusia con questa arma con questo non sappiamo che cosa sembrava un disco volante sembrava non si sa l'arma Uranus non si sa non si sa assolutamente ma Lulusia viene rasa al suolo viene disintegrata fatta sparire letteralmente dalle mappe con tanto di voce degli 5 anziani che dicono signori Lulusia non è mai esistita di che cosa stiamo parlando questa tavola è la rappresentazione della potenza del governo mondiale e del perché in 800 anni probabilmente loro siano riusciti a fare tutto quello che hanno fatto nonostante siano dei dementi hanno qualcosa in mano che possibilmente può fare queste cose può radere al suolo luoghi in un colpo solo vedremo che cos'è cosa sarà che cosa rappresenta se è una cosa nuova se è una cosa antica se non lo so qualunque cosa sia è veramente strepitoso è potentissimo e ha letteralmente spazzato via sia Lulusia che anche diverse nostre idee diverse nostre aspettative cioè l'attesa che il governo non facesse nulla fino alla fine è stata spazzata via con questo colpo bello bello vediamo quindi alla numero 2 che in realtà è il numero 1 quindi è la top 1 assolutamente nel momento che a me onestamente ha più lasciato bocca aperta fatto impazzire per tutto il 2022 è questa cosa qua la mia reaction a questa questa tavola ve la ricordate tutti che cos'è sta rova che cos'è sta rova che cos'è sta rova cioè l'idea di unire Crocodile Miocchi e Buggy insieme in questa gilda la cross guild dove loro vanno in giro a dare la caccia ai marine penso sia veramente la scelta di Oda più pazzesca del 2022 è una genialata è una figata è veramente qualcosa di inverosimile e la cosa che mi ha eccitato di più in assoluto è questa cosa qua questa cosa qua se al posto di Miocchi fosse stato Teach io ovviamente sarei morto in diretta ma non è possibile che ci fosse Teach chiaramente però se ci fosse stato sarei morto letteralmente morto quindi va bene che ci sia il falco va bene va bene così almeno gli da ancora prestigio questo falco che ormai era un contadino adesso è tornato invece in campo come grande ammazzatore di marine come il suo nome il suo nickname dice il cacciatore di marine crocodile è uno dei miei tre preferiti insieme a Tice e Doflamingo e Vaghi chiaramente è il dio assoluto di tutti gli dèi quindi questa cosa la trovo la più bella in assoluto quindi veniamo al gran finale che vi ripeto non è la posizione 1 la posizione 1 è questa però è una menzione speciale che si merita il tetto il tetto del mondo che è questa cosa qua la grafide battaglia tra Fukuro Kuju e Raizo con il ditino che blocca tutto mentre le fiamme imperversano nel castello di Kaido che vi devo dire ok il prezzo è giusto questa è e io adoro e penso che sia la cosa più bella che è accaduta durante il 2022 il combattimento tra Fukuro Kuju e Raizo è la cosa più bella che sia accaduta in tutto il 2022 si merita assolutamente il primo posto per quanto io vi dica per me la top 1 al top ci sta chiaramente cross guild questo questo scalza tutto questo scalza tutto ed è un peccato che sia finita se fossero stati ancora lì a combattere non c'era veramente storia per nulla da qui alla fine di One Piece è così è così ed eccoci questa è la mia top inferno delle tavole del 2022 fatemi sapere la vostra potete anche limitarvi alle prime tre se non avete voglia di fare il papirone alla fine sono tanti capitoli da riguardarsi quindi boh fatemi una top 10 una top 3 fate quello che vi pare insomma ditemi le vostre tavole preferite io vi saluto fate i bravi divertitevi e buon 2023 un bacione a tutti ciao 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 Grazie.